Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale e oggi parliamo di Zara e sì, mi sono lasciata convincere dal sito, ho fatto un ordine mega galattico e quindi se volete sapere che cosa ho acquistato sul sito di Zara ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. e la meno rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga sono questi, sono questi, sono enormi, non so come fare perché qua non ci sta niente e tra l'altro sono anche belli pesanti vabbè praticamente faremo un aula unboxing in pratica devo trovare un coltello se no non riesco a aprirli allora, primo pacco sono due pacchi enormi allora, alcune cose erano in saldo sul sito, addirittura le ho trovate a 2,95 ed è vero raga, è vero, adesso vi, poi vi metto gli screenshot perché mi sono scocciata del fatto che mi dite è vero, hai detto una balla l'hai detto solo per fare il titolo solo per fare... cos'è che è il clickbait? no ragazzi, se vi dico così non ve lo direi mai per dirvi una balla, assolutamente solo che l'altra volta mi sono dimenticata di fare gli screenshot stavolta non mi avete fregato, ho assolutamente ben niente ok, allora, primo pacco lo apriamo oh my gosh vediamo cosa c'è dentro e c'è dentro allora calma, è sangue freddo una cosa che avevo visto è che avevo ordinato 10.000 magliette e ho detto ma quando le ho ordinate mi sarò confusa e invece mi sa che le ho ordinate tutte di colori diversi ed è per questo che erano tante magliette la prima è questa sì, questa era 17,95 l'ho pagata 9,95 ok, allora ci siamo ed è questa, color panna è molto... è il tessuto, sembra quasi un tessuto invernale però è a maniche corte è arricciata sotto guardate che bella e dietro ha questi tre bottoncini per il collo mi piace molto è molto morbida e l'ho presa appunto in color beige sì, esatto, è questa in color beige in color bianco ovviamente di bianco non se ne è mai abbastanza erano 17,95 le ho pagate 9,95 non so se ve l'ho detto in color nero e mi sa che me ne hanno mandate due beige era lì che ho fatto l'errore esatto quindi questa mi sa che la dovrò rimandare ritornare perché ne ho prese due beige sicuramente ho cliccato due volte ma in realtà volevo cliccare una volta sola dopodiché completino assolutamente fighissimo top con spalline ok la manica è così cioè senza manica in pratica sotto è dritto cade dritto questo è un materiale tipo jersey è tipo una felpa questo mi sa che l'ho pagato a prezzo pieno e veniva a 12,95 sì sicuramente a prezzo pieno con i suoi pantaloni sempre di jersey che vengono chiamati morbidi al tatto sul sito dritti quindi pantaloni dritti e morbidi in vita ho preso di tutti questi capi ho preso la S ho preso la S anche di questi e questi costano 19,95 allora d'inverno e di autunno cioè queste cose qua così in questo tessuto che comunque è un tessuto caldo sono come la tuta quindi io le uso veramente tantissimo e quelle di Zara sono molto molto belle ho già provato l'anno scorso con i pantaloni bianchi a parte il fatto che le ho macchiati subito ma comunque il tessuto è veramente fantastico ed è morbidissimo per cui queste credo proprio che le terrò tutte un'altra cosa molto carina che però non so se la terrò perché è molto fuori dalle mie corde è questo completino anche questo l'ho pagato tutto a prezzo pieno ed è un trist cioè non è un completo a due ma è un completo a tre pezzi allora partiamo con il body 12,95 che è molto carino anche qua sempre S ho preso praticamente la schiena è un pochettino più scollata e davanti lo scollo è quadrato vedete che bello poi ve li faccio vedere comunque indossati questi capi e poi è un body si apre quindi è anche comodo sotto c'è il pantalone mi pare che si chiami cannetè questo questo tessuto che è un po' elastico se vedete ed è fatto a costine è molto morbido anche qua la S il pantalone è costato 17,95 ma sono bellissimi raga ma non me li aspettavo così belli ci hai detto sicuramente rimando indietro qualcosa ma mi sa che mi tengo tutto stavolta e poi il gilet da mettere sopra con le tasche abbastanza lungo cioè dovrebbe arrivare sotto il sedere anche questo molto morbido elasticizzato con i bottoni davanti appunto le tasche questo l'ho pagato 17,95 se non mi sbaglio no 19,95 anche questo anche qua ho preso tutta S anche perché la XS non esiste quindi partono dalla S queste misure e mi sa che li terrò tutti poi qua ho una borsa e un paio di scarpe ma volevo tenerle per ultime quindi le sposto e apro il secondo paccone e nel secondo paccone abbiamo ah questo sì lo riconosco subito vestitino con spalline con spalline è un vestitino che va giù dritto ed è bianco adesso se non è trasparente lo tengo questo ho preso una XS costava 25,95 l'ho pagato 15,95 e boh secondo me è molto molto carino veramente se non è trasparente lo tengo sicuro perché mi piace molto per 16 euro veramente anche il tessuto è molto bello poi ho preso questi pantaloni neri plissettati sono pantaloni a palazzo ho preso la XS costavano 29,95 io questi li ho pagati scontati anche questi sono tutti plissettati neri vedete e vi dico subito quanto li ho pagati 19,95 quindi 10 euro o meno vediamo se mi piacciono non sono molto sicura di questi però vediamo poi ah questo questo mi piaceva tantissimo speriamo che sia bello perché allora vestito di design nero spero tantissimo che sia bello perché sarebbero gli ultimi giorni per poterlo mettere è praticamente una gonna tipo cotone e sopra ha il top elasticizzato quindi mi piace con queste spalline molto sottili da legare allora vederlo così mi piace tantissimo ragazzi ma tantissimo solo che devo vedere come mi sta tra l'altro io di vestiti neri lunghi non ne ho molti questo qua costava 39,95 e l'ho pagato 25,95 quindi boh vediamo se mi sta sono anche contenta perché ripeto di vestiti così estivi lunghi non ne ho più cioè ne ho uno solo ma è vecchissimo forse è anche già da dar via poi ho preso un altro set a tre se non mi sbaglio no è a due questo anche questo molto molto fuori dalle mie corde diciamo che non è una di quelle cose che acquisto solitamente però volevo provarlo e vediamo un attimo adesso come mi trovo pagato a prezzo pieno anche questo taglia S shorts in maglia sono proprio in maglia ragazzi quindi e sono anche abbastanza cortini per cui non lo so pagati 19,95 però sono veramente belli adesso vediamo se mi stanno bene li tengo ovviamente per stare in casa non è che ci vado in giro con gli shorts così però in casa magari sto lavorando eccetera eccetera mi piace e sopra c'è un gilet sempre in maglia questo gilet è bellissimo ragazzi magari tengo il gilet non i pantaloncini però mi dà fastidio non so se siete come me io quando c'è l'abbinamento mi dà fastidio troppo come si dice scordinare i capi cioè io devo mettere con quell'abbigliamento costi quello che costi quindi è molto bello con le taschine i bottoni è molto pesante questo tessuto ragazzi è molto inverno più che autunno però è veramente bellissimo ho preso la S anche perché parte dalla S questa e è costata 29,95 quindi 30 euro però li vale tutti questo tessuto qua perché veramente è bellissimo spero solo di non fare cretinate con la lavatrice ecco che quello è il mio unico problema dopodiché questo maglioncino in canneté che è molto leggero nero molto lungo quindi potrebbe essere anche un vestito con le maniche è tutto molto elastico a costine mi piace tantissimo ragazzi questo non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto andiamo a vedere quanto l'ho pagato allora la giacca lunga in canneté 25,95 e ho i pantaloni in abbinato che sono questi anche questi a zampa con il risvoltino sotto non so se si vede purtroppo mi sa che il nero farà fatica a vedersi però c'è un risvoltino sotto sono aderenti a zampa d'elefante 19,95 e anche questi ho preso la S mi piacciono moltissimo anche questi ma mi sa che manca della roba no non manca della roba è che io non l'avevo vista la mitica maglia a 2,95 questa maglia basic nera però è molto carina ha le maniche col risvoltino quindi comunque non è completamente basica ed è praticamente insomma vabbè è basica molto basica e l'ho pagata 2,95 anche di questa ho preso la S poi ho preso una cosa che sto rimanendo un po' un po' malino perché pensavo fossero più grandi allora ho preso questa borsa no questa è grande come pensavo ok questa borsa che è praticamente una borsa in pelle morbida una shopper nera heller di borse non hai abbastanza ma mi piaceva tantissimo la forma non so perché perché non è proprio nelle mie corde eppure mi piaceva così tanto costava 19,95 io l'ho pagata 9,95 poi invece c'è questa borsa tracolla in pelle con la patta che però è piccolissima ragazzi io l'ho comprata perché ho un portafoglio che mi ha regalato mio padre di questo stesso colore però se metto dentro il portafoglio la borsa quindi questa mi sa che non l'apro neanche e gliela riporto anche perché questa l'ho pagata a 20 euro e no non mi piace proprio non penso proprio che la che la utilizzerò e mi sa che gliela riporto perché così no e poi in ultimo ma non di minore importanza ho preso degli stivaletti col tacco effetto calzino le ho pagati 39,95 che credo sia proprio il suo prezzo ma mi piacevano perché uno perché ho distrutto praticamente tutti gli stivaletti invernali e quindi mi serviva sicuramente uno stivaletto due perché il tacco è bello alto sembra spillo da cioè o comunque sembra un tacco molto sottile a stiletto dal dal profilo mentre invece come vedete è un bel taccone quindi ti consente anche di camminare comoda davanti sono appuntiti ma hanno la punta quadrata per cui sicuramente sono anche un pochettino più come come dire sono un pochettino più utilizzabile poi sono a calzino adesso vediamo questi appunto se mi vanno bene me li tengo anche perché proprio ho distrutto tutti gli altri insomma che avevo neri e ragazzi questo era tutto per il mio haul di Zara mi auguro che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con tanti e tanti like di supporto ma soprattutto non mancate di scrivermi qui sotto qual è il capo che vi è piaciuto di più e per favore anche quello che vi è piaciuto di meno e che secondo voi dovrei restituire ovviamente vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video se volete potete iscrivervi al canale soprattutto attivando la campanella delle notifiche youtube vi aggiornerà automaticamente ogni volta che pubblicherò un nuovo video a me non rimane altro da fare che ringraziarvi ancora tantissimo e salutarvi al prossimo video mandandovi un mega mega bacio e tantissimo ma tantissimo ciao ciao Grazie a tutti.